Grazie mille. Si fanno sentire, hanno iniziato molto forte, loro lo sapevamo, l'avevamo preparata al meglio e credo che sia il risultato più che giusto. Ti aspettavi dopo due giornate in questo girone di fare sei punti? Diciamo che comunque pensiamo partita dopo partita, non era semplice però abbiamo le qualità per giocarcela e vincere con tutti. Alessio, in cosa potete ancora migliorare? Sì, credo che in qualunque aspetto siamo all'inizio, siamo giovani, abbiamo ampi margini di miglioramento su tutti i punti di vista. Due partite di Champions, una a sinistra e una a destra, qual è il ruolo che ti piace, dove giochi meglio? Mi trovo bene in entrambi i ruoli, mi metto a disposizione del mister, ho giocato più a sinistra però anche a destra, oggi mi sono trovato molto bene. Quindi credo che in qualsiasi ruolo mi metta il mister, cerco di dare il meglio. Forse lì un po' forzato però se c'è l'occasione non posso dire di no.